Ho descritto una misura prevista nel piano di gestione dei rischi alluvioni elaborato dall'ente che è interessata a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio ambientale e nella gestione delle emergenze legate alle alluvioni. Questa misura di piano è nota come osservatorio dei cittadini ed è praticamente un luogo virtuale attraverso il quale i cittadini e le autorità locali possono condividere informazioni attraverso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione opportunamente progettate per cui applicazioni per cellulari e una piattaforma web di supporto alle decisioni che serve appunto a raccogliere sia i dati già a disposizione sull'ambiente, sia le segnalazioni dei cittadini, sia i risultati di un modello previsionale che viene sviluppato in maniera tale da acquisire sia i dati ambientali da sensori statici tradizionali che i dati dei cittadini. Devono essere consapevoli delle condizioni di rischio e pericolo nel territorio, cosa che attualmente ancora non esiste purtroppo e inoltre bisogna stimolare il loro senso civico, per cui la partecipazione attiva in processi di monitoraggio ambientale, di segnalazioni di criticità nel territorio, cioè sono parte attiva, non devono solo ricevere delle comunicazioni da parte delle autorità. Grazie.